A volte uno sciocco episodio quotidiano può finire in rete Ed essere fonte di barazzo visto da milioni di persone Ed ogni nostro telefono è una finestra aperta sul mondo Non sappiamo chi ci guarda dalla finestra Ogni volta che possiamo chiudiamo questa finestra E riprendiamoci il nostro mondo Ok, lo sapete che cosa fa un pesce nell'acqua minerale? Si gasta Non lo capiscono Nell'acqua minerale è così da Si gasta Lo sapete che cosa succede a Batman Che se mangia una banana diventa banana Ah no Ah no Ah no